Ecco, diciamo la narrazione va bene, la cronaca non è il momento, non è il mio mestiere. L'aria di vita romana e non risposta. E noi anzi la salutiamo, salutiamola così almeno oltre a ridere di me che sto facendo questo commento mi saluterà, spero, saluto Claudia e anche tutti gli annessi e connessi. Stanno facendo tondino, quindi gli addetti al canape prenderanno il canape e poi ci sarà la chiamata. La ministra non vuole fare commento e le fa le foto. Ora passo alle foto e poi ripasso alla lettura. Io almeno muoio perché vado in giù a fare interviste. Se ci vai a te mi fai un favolone. Allora mettiamoci anche questi altri occhiali, se no là vicino non vedo. Però sono questi occhiali, sono rinato, sono rinato e vedo. Non vedo più. Eccolo, questo è Bombolina Columbo, lo segue Benitos Mula. Dopodiché arriverà Ardellina con Niedu. Dietro a Niedu arriva Brandi Marchesana a Scelsosimo. Eccolo va, con la sua zubba al mare elastica. Ho saltato a Scermule Andrea Sanna, vincitore del Pagliotto di Pegnano. Quindi Marco Bitti, che abbiamo sentito prima, con Astoriox. Avete sentito Anna, cavallo che ha corso, il palio per la lupa. E di ricorsa, Zaminde, con Michel Puzzo. Bravo, bravo per questa bombolina. Con Carboni. Così Carboni. Columbo. Quindi c'è Mula, Celsosimo, ora si infila San Della Sanna. Poi, dopo Celsosimo, Niedu. Cordellina. Mi sposto e mi si gira subito. Con questo treppiede e tutta la lancia musia. Di ricorsa, Zaminde, con Michel Puzzo. Il gallo ci saluta come tutte le volte. Eccoli. Attività. La Sanna. Oplala. A? Michel Puzzo. passa ora vi c'è il pulso la lenta c'è il mule provando a vincere questa volta passato in testa di fuori vediamoci ripoverà ancora ma l'ha volata proprio via l'ha volata proprio io quando si passa a quel modo fai poco arriva anche a storiux quindi vince zaminde seconda poi marchesa e terzo è a storia fermando il cavallino va bene ben già vede a tavola e arrivava anche il problemino se vogliamo dire al canape ma ora anche questa navalla ma l'attenzione c'è un bellotto di cavalli ce n'è troppi belli come ho detto prima al capitano della del drago il padre non è una corsa i cavalli devono essere scalati perché sennò diventa una forse da un palio bene come va bravo mi scesi però anche bitti ha fatto il suo e c'è il soci dove è andato la questo è invece Antonio Mula ce l'ha fatto la bocca a niente marchesana però non gli ha dato scampo zaminde l'ha passato senza senza potersi difendere bene è tutto aspettiamo la quarta batteria a fra poco